Batti il muro, palleggio e batti il muro, dai, vai, 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 oh, ma basta con questo allenamento in casa, guarda mi hai sporcato tutto il muro, senti, io non ne posso più, farò bene fare lo sport, ma basta, in casa, eh, chi è, chi è, sì? Signora, è l'ultimo allenamento questo in casa, perché riprendono gli allenamenti fuori, deve collegarsi subito che c'è il nuovo mister e gli spiega quali sono le protezioni che devono mettere, vabbè, guardi, è una buonissima notizia, grazie, però adesso lascia andare avanti, Robi, palleggia, avanti, vai, 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 stai attento però al muro, mamma mia, apri un attimo Leo, Che c'è? Mi ballano tutte le app, e allora, cosa devo fare? Ma che ne so, che cosa vuoi? Devo collegarmi su Zoom, mamma, sono due mesi che te lo spiego, devi mettere il codice, basta, ora non ho tempo, ti prego, non ho un buon rapporto con la tecnologia, grazie, sei gentilissimo, Robi, dov'è questo codice? Ecco, adesso scrivo l'indirizzo, clicco, buongiorno, mi sente, sono la mamma di Robi, è qui per il bambino? Sì, 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 sono qui per il bambino, ma cosa ha in testa? Sono le nuove protezioni che avete stabilito? È la protezione dell'identità Ah, bella come cosa, ma non è pesante, perché adesso fa anche caldo, poi sudano troppo Se sudano è molto meglio Vabbè, però poi non è più un gioco, diventa un sacrificio Deve essere un sacrificio Non lo so, però vabbè, lui ci tiene, che io lo iscriva, lo iscrivo, ecco Come, il nome? È Robi, è il bambino, mio figlio, del 2007 Ah, del 2007, giovane, bene, molto bene Ma, ma, che orari fate? Verso mezzanotte Eh, mezzanotte, a mezzanotte, ma sta scherzando, ma è troppo tardi A mezzanotte, e porti la candela La candela, ma non avete i riflettori? In che campo giocate? Il campo santo Mamma, ma chi è questo? E chi è questo? È il tuo mister, no? Ma no Come no? Ma, scusi, ma lei non è il mister? No, io sono il master Master? Ma che cos'è, cos'è il master? Ma spingi Non lo so, ma spingi Questa è una setta satanica È una setta satanica Così, mi sono sbagliato indirizzo, mi dimentichi Siamo là, setta satanica Si faccia come se No, 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 no Spegniamo, come si spegne, Roby? Come si spegne?